Signori mi raccomando mettetevi la mascherina ma non solo la mattina ecco quindi la mascherina va messa sempre e tenete questo metro di distanza che non è mai abbastanza insomma tenete presente che dovrebbero essere anche non so 1,63 un po' a me un po' a te che ne so per esempio potrebbe arrivare anche a 1,68 così facciamo il botto ragazzi insomma scherzi a parte la mascherina la mascherina è fondamentale anche il lavaggio delle mani per un pacifico domani quindi questo fuori da ogni regola per evitare un'ulteriore tegola e quindi questo per noi è importante è fondamentale quindi perché cerchiamo di starci nei belli tranquilli da qui a Natale signori spesi a parte è importante la mascherina il lavaggio delle mani e mantenete la distanza di sicurezza fatelo con prontezza ciao ciao